Bene, passiamo all'altra testimonianza, che è quella della dottoressa Gloria de Sifad, è una studentessa del Master, però è anche una persona che lavora nella provincia qui in Sardegna, nel sud Sardegna, se non ho capito male. Prima scambiavo due parole con lei e mi diceva che questo studio che ha fatto, questo periodo di approfondimento, le serve molto anche sul versante della sua attività lavorativa perché lavora nell'ufficio appalti. Ci parli proprio di questo, mi sembra che questa sia una testimonianza importante proprio da questo punto di vista. Grazie. Sì, buongiorno, allora noi gli studenti del Master della prima edizione iniziamo il percorso nel luglio del 2014 con le selezioni, con la presentazione della domanda, poi a settembre venimmo selezionati, da ottobre 2014 a ottobre 2015 ci fu tutto il ciclo di lezioni e si è concluso il percorso a febbraio di quest'anno con la consegna delle tesi, dei lavori di tesi. Diciamo che il Master ha avuto per noi tutti un'importanza credo fondamentale nella nostra formazione, nell'acquisizione della consapevolezza, del fatto che non possiamo mettere al centro soltanto la realizzazione di un buon bando, ma abbiamo acquisito la consapevolezza che al centro dell'acquisto pubblico c'è anzitutto il cittadino, l'utente finale, quindi la realizzazione di un buon servizio. A poco serve fare un bando bellissimo, perfetto, perfettamente rispondente alle norme di legge, se poi di fatto nell'esecuzione non profondiamo la stessa energia, la stessa cura affinché l'utente finale sia soddisfatto per come abbiamo investito quelle risorse. e dunque cosa e chi c'è al centro del nostro lavoro è sicuramente il bene comune che è declinato appunto in tante maniere. Diciamo che realizzare il bene comune in questo modo non è facile per noi che siamo operatori del settore e in un primo momento siamo stati tutti molto perplessi rispetto all'iniziativa di mettere insieme il pubblico e il privato e invece se oggi dovessimo descrivere con una sola parola, che cosa è il master e come esso ha trovato la sua reale pienezza, la parola è proprio insieme, insieme declinata in diverse maniere, insieme pubblico e privato, sembrano due mondi destinati a non trovarsi, a non parlarsi, a non dialogare e invece noi siamo stati la dimostrazione del fatto che non soltanto pubblico e privato possono parlare ma quando parlano sono capaci di realizzare cose molto importanti e molto significative nell'esperienza diciamo della spesa pubblica c'è sempre una certa riottosità a pensare al rapporto tra il pubblico e il privato perché forse in Italia più che in altri paesi c'è il timore di dinamiche collusive, corruttive, della diciamo instaurarsi di relazioni privilegiate tra una stazione appaltante e un operatore economico e questo è sicuramente vero, è un argomento che noi abbiamo affrontato parlando dell'etica, parlando della patologia, insomma delle procedure, però è anche vero che se come noi crediamo riusciamo ad essere animati da quella che poi fondamentalmente è più diffusa perché in realtà la gente per bene è di più di quella che, o almeno così speriamo insomma, è di più di quella che si lascia corrompere, in realtà poi già in fase di programmazione, come diceva professor Colangelo prima, la relazione tra il pubblico e il privato porta veramente a capire che cosa si vuole, di cosa si ha bisogno e soprattutto come è possibile realizzarlo perché spesso le competenze che un privato ha, che un operatore economico ha, che lavora in quel settore sono importanti perché magari dice a noi del pubblico guarda che quello che tu vuoi realizzare è fattibile ma non nel modo in cui ce lo stai chiedendo, forse sarebbe meglio provare a percorrere un'altra strada, quindi ecco noi abbiamo fatto un po' questo tra una lezione e l'altra, abbiamo cercato di instaurare una dinamica virtuosa di dialogo tra il pubblico e il privato che serva proprio e che è servita proprio per individuare gli obiettivi realmente percorribili, realmente raggiungibili, insieme quindi pubblico e privato, insieme significa anche fare rete, fare network, noi siamo una ventina di studenti provenienti quindi da tutti da esperienze lavorative sia del pubblico che del settore privato, enti locali, quindi comuni, province, gestioni associate ma anche cooperative, cooperative sociali, società a responsabilità limitata, quindi diciamo professionalità diverse, abbiamo rappresentato in questo periodo di tempo l'uno per l'altro come una sorta di, passatemi l'immagine, di cassetta degli attrezzi, cioè quando ci serve una consulenza chiediamo a chi del gruppo sappiamo che ha quella competenza ed è una sicurezza perché comunque sappiamo che dall'altra parte abbiamo chi ci risponde, una persona che è realmente preparata, non perché sia diciamo uno studioso da cattedra, con tutto il rispetto per gli studiosi da cattedra, ma perché è una persona che come noi ci lavora proprio concretamente, ci mette le mani. E' proprio da questa diciamo nostra esperienza che è nata tra di noi questo insieme abbiamo voluto, abbiamo fortemente desiderato poterlo mettere a disposizione anche di altri. Ed è da questa idea che è nata l'esigenza di creare un'associazione che poi è stata promossa da dottor Perra, ma che noi tutti abbiamo accolto con grande entusiasmo e che è appunto l'associazione nazionale dei manager per gli appalti e gli approvvigionamenti pubblici. Noi studenti del master siamo i soci fondatori di questa associazione che desideriamo diventi però un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore appalti pubblici e privati in Sardegna. Perché proprio desideriamo che chi opera negli appalti abbia dei colleghi ai quali rivolgersi, che siano strutturati in una organizzazione che possa dare risposte e supporto. Diciamo che è un sogno che abbiamo dall'inizio, da quando abbiamo avviato questa esperienza, quello di fare in modo che la figura del buyer sia riconosciuta a livello ufficiale quindi possa essere una figura professionale, non di soggetti improvvisati che un giorno vengono acciuffati da un dirigente e messi lì a fare gare, ma che siano soggetti professionalizzati che possano magari un giorno anche essere iscritti a un ordine, perché no, al quale per accedere debbano superare degli esami, delle prove, perché comunque stiamo pur sempre gestendo soldi pubblici cioè soldi che non sono nostri, ma che sono di tutti e che non si possono dare al primo che passa, ma che si devono dare a persone che siano veramente competenti. Quindi, niente, questa è un po' la nostra esperienza, che oggi è forse la nostra esperienza di fare squadra e di farlo insieme. Ed è un'esperienza che oggi, più che in altri periodi di storici, trova rispondenza anche nelle esigenze prospettate dal legislatore. Di febbraio, la legge numero due, la legge regionale della Sardegna, che prevede il riordino delle autonomie locali, nella quale è detto molto chiaramente ai comuni, toglietevi dalla testa che potete appaltare da soli. Ormai possono esistere solo le unioni dei comuni, le gestioni associate, le centrali uniche di committenza. Anche il legislatore ci dice che dobbiamo lavorare insieme, perché il disgregare la domanda genera necessariamente gli sprechi, mentre l'aggregato fa in modo che si possano guadagnare delle economie di scala. E quindi, niente, quindi noi insomma siamo contenti, siamo grati anche dell'occasione che ci è stata data, perché è un'occasione di crescita non soltanto professionale e personale per noi, ma anche per gli enti che hanno investito su di noi. È stato un anno e mezzo molto impegnativo per noi e anche per i nostri uffici, che si sono dovuti privare comunque della nostra presenza. Negli enti locali in particolare, ma anche nelle società, togliere una o due persone, oggi come oggi, con il blocco delle assunzioni, con la carenza di personale, non è poco. E quindi noi dobbiamo molta gratitudine a coloro che comunque hanno investito su di noi, a coloro che ci hanno accolti in questa esperienza. Speriamo anche di poter restituire non soltanto ai nostri enti, ma a tutta la regione, possibilmente dei risultati, insomma, di, appunto, in termini di consulenza, di aiuto, che ci aiutino a fare di questa rete una rete sempre più grande e più capillare. Niente, l'ultimo pensiero con cui vogliamo un po' chiudere è proprio il pensiero sul concetto dell'essere insieme, perché c'è un antico proverbio della tradizione popolare che dice che se da soli si va più veloci, però insieme si va più lontano. Grazie, grazie mille. Dottoressa, mi sembra che, a parte, diciamo, cadere testimonio sulla positività di questo processo formativo. Ecco, la cosa più rilevante è questo andare verso una professionalizzazione e una tipicizzazione del lavoro del buyer pubblico, che è poi quello che con Gustavo Piga abbiamo cominciato a fare qualche anno fa, quando con l'Università e Tor Vergata abbiamo attivato una serie di relazioni, di rapporti annuali su come acquista la pubblica amministrazione, sia nel settore lavori pubblici, sia nel settore forniture, alcuni dei quali abbiamo fatti anche in stretta collaborazione con Consip e con la Scuola Nazionale d'Amministrazione. Quindi mi sembra che poi alla fine tutti i rivoli vadano a finire in un grande fiume e questo è un risultato positivo. Alla fine c'è una strategia di fondo e questa è una bella cosa. C'è una linea di tendenza. Prima di passare all'ultima parte della mattinata, alla consegna dei diplomi, credo che il direttore Pisano ci possa fare due parole di chiusura di questa prima parte della mattinata e poi passiamo alla seconda parte. Anche se non lo vuole fare glielo chiediamo lo stesso. Prego direttore. Sì, che dire, si sono posti gli accenti su alcuni temi che sono fondamentali, che è quello delle competenze che il sistema deve avere per poter sviluppare tutta una serie di iniziative che devono concorrere a crescere il sistema economico stesso. Sia dal punto di vista del privato sia dal punto di vista della pubblica amministrazione che queste risorse le gestisce, le mette in campo ed è obbligato anche ad orientarle nel miglior modo possibile. Diciamo che il percorso che ha tracciato Vincenzo è abbastanza significativo, probabilmente è anche abbastanza impegnativo rispetto a tutta una serie di iniziative che lo sportello, quindi Sardegna Ricerca in sé per sé, dovrà o potrà percorrere nel prossimo futuro. Vi ricordo che noi oltretutto saremmo, per conto dell'autorità di gestione del PORFESR, anche il soggetto gestore di tutte quelle iniziative che riguardano il pre-commercial public procurement, che sono tutta una serie di risorse finanziarie che dovranno essere destinate all'attività di innovazione, orientate verso l'attività di innovazione della pubblica amministrazione, quindi un primo lavoro che dovrà essere fatto sicuramente è quello di verificare qual è il fabbisogno che la pubblica amministrazione locale esprime rispetto all'innovazione che gli è necessaria e quindi fare una cernita anche di quelle che sono le esigenze più significative e provare insieme ai privati che vogliono partecipare a questo percorso a identificare quelle che sono le iniziative più idonee da sviluppare. Niente, io mi fermo qui, faccio gli auguri a tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso, al master e quindi buon lavoro a tutti.